Maurizio Cini, main sponsor dell'Atletico Grosseto. Maurizio, cosa ti ha convinto a dare fiducia a questa società neonata? Cosa ti ha colpito in particolare? In particolare mi ha colpito la serietà delle persone che si sono presentate a me, il progetto che mi hanno proposto. Sono in crescita con i ragazzi, con le squadre, e quindi chi come me che ama essere in crescita non accetterebbe un progetto del genere. Quindi ci credo, le persone sono serie, in bocca al lupo per i ragazzi, che si divertino soprattutto. Cosa ti aspetti da loro? Quindi una crescita? Sì, io sono solo lo sponsor, quindi il resto aspetta a loro, però mi aspetto che ci sia una grande serietà da parte di tutti e che poi alla fine arrivi anche qualche risultato. Così magari il prossimo anno vedremo di fare un rapporto anche maggiore. Vedere qua tanti ragazzi festosi, gioiosi, è già un bel biglietto da visita. Sì, infatti vedere tanta gioventù, tanti genitori interessati, a me colpisce molto. Ora vediamo come andrà il proseguo dell'annata. Grazie a tutti.